E' mercoledì 10 maggio, buongiorno e bentrovati con l'informazione di Telemolise e questa mattina in regia Nicola Passarelli. Apriamo purtroppo con la cronaca, ancora un incidente mortale ieri nel primissimo pomeriggio lungo la statale 87 all'altezza del bivio Baranello Busso. Dopo la galleria un camion si è ribaltato, dopo aver sbandato e finendo nella carreggiata opposta l'autista Pasquale Arienzale, 58 anni di Sepino, è morto schiacciato dall'abitacolo. Guidava il camion dell'impresa edile per cui lavorava, trasportava sul rimorchio un piccolo escavatore sul posto 118, Vigili del Fuoco, ANAS, Carabinieri e Polizia Stradale. Quest'ultima ha effettuato i rilievi per capire la dinamica sul posto, anche il magistrato. Il traffico è rimasto bloccato e deviato a lungo. ITR, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha revocato dalla sua carica il commissario straordinario Andrea Ciccoli. In precedenza a ottobre si era dimesso Roberto Spada, al momento quindi della triade commissariale è rimasto in carica solo Emanuele Rimini, un avvocato romano. Ascoltiamo il servizio di Enzo Di Caetano. È ufficiale, al timone della vecchia IT Holding, la società commissariata nel 2009 con la legge Marzano è rimasto il solo Emanuele Rimini, avvocato romano, chiamato a sostituire l'altro avvocato romano, Ghia, a sua volta primo sostituto del dimissionario Stanislao Chimenti. Destini diversi per gli altri due commissari originari, Roberto Spada e Andrea Ciccoli. Il primo si era già dimesso dal suo incarico nell'ottobre scorso, mentre il secondo è stato dichiarato decaduto al termine della procedura avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Infatti, con decreto del 7 aprile, sono state accettate le dimissioni di Roberto Spada ed è stato revocato l'incarico commissariale ad Andrea Ciccoli. Ciccoli aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento a suo carico già il 14 ottobre scorso, per poter esporre di conseguenza le proprie deduzioni, così come previsto dalla legge. La nota faceva seguito inoltre alla proposta della Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività, chiamata a vigilare sulle procedure di amministrazione straordinaria, la quale, in una relazione, aveva sollevato delle contestazioni nei confronti dei commissari. Dure la motivazione alla base del provvedimento del Ministero. Si parlava di oggettiva inidoneità dell'organo collegiale ad assicurare un'efficiente ed efficace gestione della procedura di amministrazione straordinaria e, per conseguenza, una cura adeguata degli interessi pubblici, cui la stessa è finalizzata, come emerge in particolare dalla confusa, disomogenea e non compiuta rappresentazione dei costi della procedura. Dall'assenza di ponderate e concrete iniziative per la rapida conclusione della gestione liquidatoria della procedura e, al contempo, dal compimento di atti in assenza della preventiva autorizzazione ove prevista ai sensi di legge. E, infine, dall'adozione di criteri di determinazione dei compensi e degli incarichi di assistenza e consulenza legale, penalizzanti per la procedura e dal mancato controllo del corretto svolgimento degli incarichi stessi. E adesso parliamo di piccoli comuni. Dall'Istat colpo di grazia alle piccole realtà locali già moribonde e quanto ha dichiarato l'Anci Molise e l'Associazione dei Comuni riguardo le multe che l'Istituto sta inoltrando agli enti per aver omesso di fornire i dati richiesti in relazione alla rilevazione statistica sui permessi di costruire del 2013. Sentiamo in proposito Tonino Danese. Per la quasi totalità del territorio il Molise è costituito da piccoli borghi, moltissimi con meno di mille abitanti. Questo in realtà è il grido d'allarme dell'Anci Molise e l'Associazione dei Comuni. Sono già moribonde e l'Istat dà il colpo di grazia. L'Anci regionale con il suo presidente Pompilio Sciulli ha evidenziato che in questi giorni l'Istituto Nazionale di Statistica sta mandando a diverse amministrazioni multe salate per aver omesso di fornire i dati richiesti per la rilevazione statistica sui permessi a costruire del 2013. Tecnicamente l'Istat non ha ricevuto le informazioni per le mensilità nulle, cioè quelle in cui non erano stati rilasciati i permessi. Per l'Anci Molise si tratta di un atteggiamento vessatorio dello Stato nei confronti dei piccoli comuni visti solo come costi inutili da tagliare. Pompilio Sciulli ha ricordato che negli ultimi 5 anni si è bloccato il turnover del personale, sono stati tagliati trasferimenti per 204 euro per abitante e allo stesso tempo emanati oltre 60 provvedimenti che trasferiscono ai piccoli comuni nuove funzioni, competenze e adempimenti per la gran parte inutili. Le sanzioni dell'Istat, ha proseguito Sciulli, diventano così uno sfregio all'impegno dei dipendenti dei piccoli comuni cosiddetti mini-enti. Alla luce delle richieste di diversi sindaci molisani, il presidente regionale dell'Anci insieme ai suoi colleghi delle altre regioni ha scritto alla direzione generale dell'Istat per chiedere che faccia un passo indietro per evitare un inutile e contenzioso tra enti pubblici. Ulteriore richiesta è stata poi rivolta ai prefetti di Campobasso e Isernia affinché intervengano per indurre l'istituto di statistica a fare un provvedimento che consenta di riaprire i termini nei confronti dei comuni che per cause di forza maggiore hanno tardato a fornire i dati richiesti sulla rilevazione statistica sui permessi a costruire del 2013. Bene, con questo è tutto per l'informazione, passiamo adesso alla rassegna stampa. In apertura il giornale del Molise.it. Commissari ITR, decade Andrea Ciccoli, spada si era già dimesso, resta solo Rimini, questo è il pezzo di apertura del giornale firmato da Enzo Di Gaetano. Vediamo adesso le altre notizie in evidenza. Baranello, mezzo pesante si ribalta lungo la statale 87, il conducente muore sul colpo. Isernia, maltrattamenti in famiglie e minacce, denunciati due fratelli, ospedale di Agnone, i comitati si aggrappano al ministro Lorenzin e al ricorso al Tar. Da Isernia, sequestrato un quintale di prodotti alimentari in pessimo stato di conservazione. Le vicende politiche, Venitelli riconfermata alla direzione del PD. Frattura, dice la deputata, non c'è entusiasmo per lui nei circoli. Bandiera blu negata alla spiaggia di Riovivo, balneatori in comune per protestare. Termoli, festa per il compatrono Santimoteo, oggi convegno. Sui giovani, tutto il mondo e paese, a Larino un convegno sul tema dell'accoglienza. Poi un'interessantissima mostra ai Sernia, curata da Pasqualino Damiani, itinerario iconografico nel territorio di Sernia attraverso le stampe del XVII, XVIII, XIX e XX secolo. E proseguiamo con la lettura dei giornali locali, con primo piano Molise. Pranzo indigesto, chiesta la verifica di maggioranza, questo è il titolo di apertura. Gli esclusi dal briefing al ristorante infiammano la seduta del Consiglio. Niro offeso o appreso da primo piano della riunione. Frattura, chiarisca. Sbotta anche Totaro e la minoranza coglie la palla al balzo. Se questo è il clima, andiamo a casa. In taglio alto su primo piano la cronaca. Camion si ribalta sulla statale 87. L'autista muore schiacciato dalla cabina. Torniamo a centro pagina. Esplode la guerra delle donne nel PD. Venitelli e Fanelli si contendono. Renzi, nervi tesi dopo l'Assemblea nazionale. Vediamo di spalla cosa propone. Primo piano, ITR, il Ministero Licenze e i Commissari non erano idonei. Da Campobasso, Commissione Tributaria Provinciale. Vincenzo Di Giacomo è il nuovo presidente. Dai Sernia, Bliss del Nas, sequestrato un quintale di cibo avariato. Sanità, carte false per non pagare il ticket. Quattro molisani beccati dalla finanza. Da Carpinone scrive SMS e usa lo smartphone. I 104 anni di Tobia Francesco Petti. Civita Campomarano frana pure la strada. Esasperato, il sindaco Manuele si scaglia contro la provincia. Le notizie sportive. Serie D del grosso spinge l'Agnone. Continuiamo a ballare. Eccellenza, Isernia si ferma a Papandiur. Pronto l'esodo per Vasto Girardi. Pallavolo, Europea 92. Coach Montemurro rammaricato per il finale di torneo. E passiamo adesso al quotidiano del Molise. Che apre sulla cronaca. Muore schiacciato nella cabina del camion. Pasquale Arienzale, 58 anni di Sepino. Ha perso il controllo del mezzo. Che si è ribaltato l'incidente ieri in territorio di Busso. Poi sul quotidiano si torna a parlare del caso Bari. A parlare l'avvocato Roberto, uno dei tre avvocati insieme all'avvocato Messere e all'avvocato Lanese del pool difensivo di Manuela Petescia e del magistrato Fabio Papa. Sentenza di Bari. L'avvocato Roberto replica a Frattura. Denuncia presentata e firmata. Va chiarito qui che sullo stesso quotidiano Frattura aveva affermato che nessuna denuncia c'era stata. L'avvocato Roberto tiene il punto e precisa. C'è stata la denuncia ed è stata anche firmata dal presidente della regione Paolo Di Laura. Frattura che continua nella sua opera di mistificazione. Anche qui va chiarito. La soluzione è una soluzione con formula piena. Primo capoverso dell'articolo 530. Primo comma del codice di procedura penale. Perché il fatto non sussiste. Questo in italiano vuol dire una cosa molto semplice. I fatti affermati da Frattura non sono mai avvenuti. E andiamo avanti nella lettura del quotidiano. In taglio alto strappo nel centro-sinistra. Niro sono ancora in maggioranza? Si chiede. Scoppia la polemica in aula dopo il pranzo degli undici consiglieri. Le minoranze attaccano il governatore. Partito democratico. Venitelli in direzione. Io scelta, dice la parlamentare. La Fanelli stizzita. Replica. Laura sei unica. Da Campobasso firme false. L'opposizione incalza Durante e Cola Giovanni. Isernia maltrattamenti e minacce nei guai due fratelli Isernini. Isernia sempre. L'arma sequestra un quintale di alimenti mal conservati. Di Giacomo al vertice della commissione tributaria di Campobasso. Alto incarico per il presidente. Spada si era già dimesso. ITR decaduto. Ciccoli al comando. Resta soltanto Rimini. Da Termoli i balneatori di Rio Vivo non ci stanno considerati sempre di Serie B. Isernia la Will sul territorio. In mattinata inaugurazione di una nuova sede. E vediamo adesso le notizie sportive sul quotidiano. Serie D. Lupi entro fine mese. Gli emolumenti ai tesserati. Rosso-blu sempre Serie D. Agnone del Grosso svela quando firmai, parlai di playoff. Seconda categoria. Il Calena è un passo dall'approdo in prima categoria. Motori tricolore di slalom. Parte bene la Campobasso corse. E dal quotidiano passiamo alla nuova gazzetta molisana. Le strade franano e la provincia si assenta. Questo è il titolo di apertura. Il sindaco di Civita Campomarano denuncia la catastrofica situazione ma non trova interventi immediati. Il fatto proposto sempre dalla nuova gazzetta molisana in prima pagina riguarda le vicende al comune di Campobasso. Pilone e Cancellario dicono durante deve dimettersi il caso e quello delle firme false o presunte tali. L'Oscar del giorno va a Paolo Manuele che è il sindaco di Civita Campomarano. E invece il tapiro va ad Antonio Battista che non solo è il sindaco di Campobasso ma è soprattutto in questo caso il presidente della provincia di Campobasso. E dopo quella locale diamo un'occhiata alla stampa nazionale con le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera. Trump licenzia il capo dell'FBI. Questo è il titolo di apertura. Clamorosa mossa della Casa Bianca ha gestito male la vicenda Clinton. Conflitto istituzionale. James Comey indagava sui rapporti tra lo staff del presidente e la Russia. Altra apertura in taglio alto dedicata sempre all'America. In questo caso all'ex presidente Obama sul Corriere della Sera. Salvare il patto sul clima. Aiutare i giovani. Così la sfida di Obama riparte da Milano. Andiamo invece a vedere come apre la Repubblica toccando un tema che ritorna di attualità. Il caso Banca Etruria. Etruria scoppia un nuovo caso. Boschi De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera, chiese a Unicredit di comprare la banca. Lei replica. Falso, mi rivolgo agli avvocati. L'istituto, nessuna pressione, Di Maio attacca, si deve dimettere. Il PD dice no, domandatele, scusa. Poi sempre su Repubblica si parla di immigrazione, di migranti. Minniti, paura e illegalità gonfiano il populismo. La sicurezza è di sinistra a parlare, è il ministro dell'interno. Di spalla invece si parla su Repubblica di una interessantissima mostra a Londra. Pink Floyd, 50 anni, di art rock. E dal quotidiano La Repubblica passiamo alla stampa. PD 5 Stelle battaglia su tre fronti. Legge elettorale. Berlusconi dice no a Renzi che propone un sistema misto proporzionale maggioritario. Il duello tra PD e 5 Stelle che porterà alle urne inizia con una raffica di colpi bassi nel mirino. Boschi e raggi. Sulla stampa di Torino chiaramente si parla di Juve. Juve spettacolo, vola in finale a Cardiff. E dopo la stampa passiamo al fatto quotidiano. Sono come Berlusconi, questo è il titolo secco che fa stamattina il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Affari di famiglia, conflitti di interessi, abusi di potere e attacchi ai magistrati. Si parla chiaramente degli affari di famiglia riferiti a Maria Elena Boschi e a Matteo Renzi. Sempre sul fatto quotidiano insiste sul tema Banca Etruria. Boschi chiese a Onicredit di comprare Banca Etruria. Parla Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera. E dal fatto quotidiano andiamo adesso a vedere l'apertura del messaggero che punta questa mattina sul caso Alitalia. Alitalia spunta il referendum bis. La Furlan spacca il fronte sindacale. Grave errore. La votazione che ha bocciato l'accordo. Si fa strada all'idea di una nuova consultazione sul piano di salvataggio studiato da Renzi. Si parla poi sul messaggero della vicenda spazzatura che riguarda la Capitale. Sale lo scontro. I rifiuti restano. Raggi Zingaretti e Lite Capitale. E dopo il messaggero diamo uno sguardo alla prima pagina dell'Avvenire. Il quotidiano della conferenza episcopale italiana. La coesione sociale sfregiata dalla crisi. Questo è il titolo di apertura. Indagine della CISL. Il Paese sempre più a due. Velocità. Nuovi indicatori per misurare il benessere delle famiglie. Oltre il reddito e le regioni del sud vedono aumentare il divario. Sempre su Avvenire. A centro pagina. ONG. Il PM adesso aggiusta il tiro. Obiettivo. Le mafie. Vediamo sul sole 24 ore invece l'informazione economica. Fisco. Compensi. Burocrazia. L'allarme dei professionisti. Pressing per nuove competenze. Il nodo delle tariffe. Questa l'apertura del sole 24 ore che poi ha un approfondimento bello e ben fatto. Le eccellenze del Made in Italy spinte dall'export negli Stati Uniti conseguono un più 20%. Vediamo l'altro quotidiano della capitale. Il tempo che punta sulla vicenda spazzatura. 50 fumature di grigio. Altro che nuvola tossica a Pomezia ogni giorno a Roma. No, non va bene questo. Ripartiamo. E passiamo adesso al tempo. L'altro quotidiano della capitale. 50 fumature di grigio. Questo è il titolo di apertura. Incendi nei campi nomadi. Altro che nuvola tossica a Pomezia. Ogni giorno a Roma una cinquantina di roghi velenosi. Dei Roma a centro pagina. Poi il sondaggio del tempo. Un sondaggio shock. Spalletti e Totti. Appunto definito sondaggio shock perché i romani preferiscono l'allenatore che consegue un 62%. Al contrario del capitano della Roma, Francesco Totti, che si ferma al 38%. E dal tempo andiamo al libero. Siluro alla Boschi. Questo titolo secco fatto da Vittorio Feltri questa mattina. un siluro lanciato da De Bortoli, ex direttore del Corriere. Il giornalista grida al conflitto di interessi. La signora da ministro ha trafficato per far comprare la banca di papà da Unicredit. Lei smentisce e querela. Il colosso del credito tace come prassi e alimenta i sospetti. A centro pagina fotonotizia che ritrae Matteo Salvini e Marine Le Pen. La Le Pen perde e attaccano Salvini. Che cosa c'entra il centrodestra italiano? Con il voto francese si diede il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. E andiamo al quotidiano cugino di Libero. La verità che titola e apre sulla questione Banca Etruria. Affari di famiglia. La Boschi cercò di rifilare all'Unicredit la banca decotta del padre. In un libro che esce domani Ferruccio De Bortoli svela che il sottosegretario mentì al Parlamento quando riferì sul crack. Etruria deve dimettersi subito. Scrive la verità. E vediamo il mattino di Napoli. Doppia apertura. La prima, migranti, il gioco sporco della Libia. Accordi economici tra la guardia costiera di Sarraj e i tre gruppi di trafficanti di uomini pubblica in esclusivo. Il mattino il dossier dei servizi segreti austriaci. I nomi dei tre boss degli scafisti. Le informazioni su Facebook. In taglio alto la seconda apertura. Si parla del Napoli. Sarri per sempre. E Mertens resta l'intervista del mattino che riguarda il Napoli. Calcio di spalla alla polemica. Unicredit aiuti a Etruria. Bufera sulla Boschi. E passiamo a vedere il quotidiano comunista. Il manifesto come apre questa mattina. Il titolo Ermonnezza. E stampato sopra una foto di Matteo Renzi. Roma invasa dai rifiuti. Puliamola noi. Matteo Renzi fa il grillino e trasforma l'emergenza immondizia nella capitale. In uno show politico. Contro la Raggi chiama i militanti a vestire di giallo per la grande ramazzata domenicale. Grillo contraattacca. Scontro tra Regione e Campidoglio. In taglio alto sul manifesto. Si parla di elezioni francesi. Assalto al carro del neopresidente Francia. Al via le candidature per le legislative di giugno. E dopo quello comunista passiamo al quotidiano della destra. Il secolo d'Italia. E subito euro arroganza. Si parla anche qui nell'approfondimento di Tito Flavi delle elezioni francesi. Le notizie in primo piano sul secolo. Altre accuse alla Boschi. De Bortoli picchia duro. Obama superstar a Milano ma il presidente è un altro. Raggi non canta. L'inno non lo sa o le fa schifo. Si chiede il secolo d'Italia. E in conclusione le notizie sportive con la gazzetta dello sport. Titolo a tutta pagina questa mattina dedicato alla Juventus. Fino alla fine. Bianconeri 2 a 1 sul Monaco in finale di Champions Juve 6 a Cardiff. Triplete più vicino insieme alla notizia della festa juventina. Continua lo psicodramma invece dell'Inter. Zang ribalta l'Inter via Pioli. C'è Sabatini annuncia tardasera. Squadra a Vecchi. Arriva l'ex DS della Roma. Con lui si chiede la gazzetta dello sport. Arriveranno Conte o Spalletti? E con questo interrogativo si chiude la nostra rassegna stampa. L'informazione di Telemolise torna puntuale alle ore 14 con il telegiornale. A voi tutti l'augurio di una serena giornata.